27 dicembre 1985. Un commando formato da quattro giovani palestinesi, partiti dalla Siria, semina morte e distruzione all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, aprendo il fuoco contro i passeggeri in coda per il check-in della compagnia aerea israeliana El Al e della americana TWA. Muoiono 13 persone, fra cui tre terroristi. L'argomento